Durante la pausa pranzo erano riusciti a rubare tre testiere ed una pepiera di ottone da un mercatino dell'usato, ma sono stati incastrati dalle telecamere di videosorveglianza e così due fratelli sono finiti nei guai. E' successo a Rigutino nei giorni scorsi. I due, a bordo di un furgone bianco, si erano recati al mercatino in quel momento chiuso. Approfittando dell'assenza del titolare e dei dipendenti, i fratelli avrebbero caricato sul van la refurtiva per un valore di vendita stimato in circa 2000 euro che si trovava in esposizione all'esterno del negozio. E poi si erano dati alla fuga. Il tutto però era stato immortalato dalle telecamere di sicurezza. I carabinieri erano riusciti così a risalire alla targa del mezzo utilizzato per il furto, risultato di proprietà di un prestanome. Il furgone però nella stessa giornata del colpo era stato fermato da una pattuglia dei carabinieri in provincia di Terni che hanno immediatamente identificato gli occupanti. ottenute le fotografie dei due uomini sono stati riconosciuti nelle persone immortalate dal circuito di video sorveglianza. I due fratelli residenti a Roma sono stati così denunciati per il reato di furto aggravato in concorso.